Operazione antidroga degli agenti della squadra mobile della questura di Nuoro che hanno smantellato a Orgosolo una banda specializzata in furti e riciclaggio di auto e nella produzione di marijuana. Gli agenti della questura di Nuoro, supportati dai colleghi del reparto prevenzione crimine di Abbasanta e da unità cinofile, hanno eseguito nove misure cautelari firmate dal GIP del Tribunale di Nuoro nei confronti di altrettanti soggetti. Cinque gli obblighi di dimora e quattro gli obblighi di firma. L'operazione ha riguardato oltre a Orgosolo anche Fonni e Ololai. I poliziotti hanno sequestrato 2,7 kg di marijuana. L'operazione rappresenta un ulteriore sviluppo di un'indagine condotta dagli agenti della squadra mobile, coordinata dal dirigente Silvio Esposito, che aveva portato all'individuazione di un gruppo criminale, formato prevalentemente da orgolesi, dedito al furto di auto. Veicoli che poi venivano rivenduti, ma anche dedita alla coltivazione di marijuana. A fine agosto uno degli indagati, un dicianno venne, era stato arrestato in flagranza di reato per la coltivazione di una piantagione di marijuana, composta da 248 piantine di altezza variabile tra i 110 e i 130 centimetri. Coltivazione che avrebbe potuto produrre circa 100 kg di droga. Una quantità di stupefacente che avrebbe fruttato i malviventi se messa sul mercato dello spaccio circa un milione di euro. Grazie.